Epicenter, società a Veneta di consulenza e progettazione, crede nella rinascita delle Dolomiti. Ed è per questo che, in collaborazione con Sorgenia, vi invita a scoprire le soluzioni tecnologiche innovative che garantiscono la continuità dell'energia elettrica in caso di blackout associate all'ottimizzazione dei consumi e dei costi. L'incontro si terrà venerdì 20 settembre alle ore 15 presso il Centro Congressi Franceschini, al Palaghiaccio di Alleghe. L'invito è rivolto a tutte le aziende. Ulteriori informazioni ed eventuali registrazioni sul sito www.epicentersrls.com Epicenter, soluzioni per il vostro business.